La Cappella di San Michele La Cappella di San Michele Lungo la via Francigena Noemi Romeo Nelle cicolio del cancello in ferro c'è tutto il peso dei millenni Alla fine dell'VIII secolo l'abbazia di Novalesa Che serviva da torre di controllo sul Muncenisio Accolse più volte Carlo Magno Ora è tornata nuova vita l'ultima delle quattro cappelle medievali Dove transitavano i devoti a San Michele Arcangelo L'affresco che lo ritrae è stato in parte recuperato La Cappella si trova in cima a una collinetta Probabilmente l'idea era quella dell'angelo come intermediario Tra la terra e il cielo Come colui al quale la gente E anche la povera gente Poteva rivolgersi per ottenere dall'alto Favori, protezione e custodia La storia dell'abbazia di Novalesa è millenaria Eretta quasi al confine con la Francia Da un nobile franco nel 726 d.C. Fu amministrata per secoli dai benedettini Ce n'erano 500 in epoca carolingia Nelle 1973 acquistandola La provincia di Torino ha chiesto ai monaci di tornare Qui a Novalesa in particolare abbiamo Il restauro del libro antico Un po' di lavoro artigianale La coltivazione almeno quando il tempo Le stagioni permettono dell'orto E l'ospitalità Tra ampliamenti, trasformazioni interessanti Scoperte archeologiche Nei secoli l'abbazia è cambiata molto Ogni anno il complesso È visitato da 15.000 persone Il richiamo sono la storia della via francigena E lo scandire lento della vita monastica Grazie